Mi è stata comunicata tramite chiamata la selezione per questo tirocinio e mi è stato detto che devo lavorare con il servizio di protezione civile. Io sono laureata in architettura, ho fatto una tesi in teoria storia del restauro e mi sono laureata lo scorso 30 ottobre. Il Comune di Napoli apre le porte a 38 giovani neolaureati che iniziano un periodo di stage presso gli uffici tecnici e amministrativi dell'ente. Selezionati per voto di laurea ed età, i tirocinanti trascorreranno cinque mesi all'interno dell'amministrazione, durante i quali alterneranno la formazione teorica alla sperimentazione pratica delle attività del servizio a cui sono assegnati. Al termine del percorso che il Comune promuove da anni per agevolare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, sono previsti momenti di incontro con alcune aziende del territorio. Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, i ragazzi hanno ricevuto il benvenuto dell'assessore al lavoro Enrico Panini. Organizzeremo, dopo questo stage formativo, degli incontri ad hoc con aziende che, fatti negli anni scorsi, pur in presenza della crisi che sta attraversando la nostra città come tutto il paese, hanno dato degli esiti assolutamente positivi. Inoltre, il fatto che ragazze e ragazze, al teore di un brillante percorso di studi universitari, abbiano una fase di esperienza e di contatto con il lavoro, a partire da un'amministrazione pubblica, per quanto ci riguarda è importante per il loro bagaglio culturale come cittadini, lo è nello stesso tempo per la futura attività, perché qualunque essa sia, forniranno all'azienda che intenderà assumerli una competenza nel rapporto con la pubblica amministrazione che vale perché è rilevante proprio per i compiti che oggi la pubblica amministrazione ha rispetto allo sviluppo e all'attività produttiva. La nuova edizione dei tirocini formativi per l'occupazione coinvolge quest'anno 38 laureati, l'80% donne, che lavoreranno negli uffici comunali 30 ore alla settimana e per i quali è prevista un'indennità di partecipazione.